Ora abbiamo invitato lei, una cantante, un'appassionata di jazz, Gabriella Rea. Ciao Gabriella, bentornata, bentornata, perché Gabriella è già stata con noi. Andrea dai, portaci un microfono. Mi prego, mi prego. Ah, la vuoi proprio tu? Sì, 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 assolutamente. E allora guarda, ti affidiamo ad Andrea. Ho questo qua che è proprio da chiacchiera, proprio un microfono da chiacchiera, versione ufficiale. Allora Gabriella, noi ti abbiamo già avuto ospite alla fabbrica. Ma sapevo che tu sei una cantante jazz che ha avuto un'esperienza più di, non so cosa vuol dire, mille e un'esperienza, invece c'è un'esperienza più di mille. Vabbè, poco meno. Allora, volevamo vedere se si poteva organizzare tra di voi una piccola, una piccola jam session, improvvisazione su un brano estremamente conosciuto, ma estremamente conosciuto, che sarà? Un night and day. Che è un brano stupendo. Poi io sono particolarmente affezionato alla versione rifatta da G2, ma questa è un'altra storia. Allora, volevamo vedere se si poteva in un'esperienza più di, non so cosa vuol dire, perché la vita è inángere quando si poteva a essere insera. Che è un brano di nema, da li butti, dove sei? Che è un brano stupendo. Un diagn thri 빼 bättre, suo s� Il brano stupendo. Che èピare uno stupendo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti